Il centrocampo del Chievo quest'anno è cambiato molto, tu sei qua da poco, come ti trovi nel campionato italiano? Quali sono le tue esperienze dopo tre mesi che giochi qui? Ma è importante arrivare a questo calcio, per me in questi tre mesi è importante, ma tutto compagno con me sono bene e per me questo è molto, molto importante. In mezzo al campo domenica c'erano giocatori di diversa nazionalità e quindi anche lingua, è un problema questo per la comunicazione durante il gioco per voi? Un po', un po' è sempre un problema perché la lingua non è simile a tutti i compagni, ma quando vai a giocare dobbiamo essere tutti bravi per far capire nella partita. Dobbiamo fare tutta la lingua, ma non lo so come dire, ma dentro del campo dobbiamo fare bene. Domenica tocca la Fiorentina, per voi è già una sfida fondamentale in termini di classifica o è ancora presto per dirlo? No, tutta la partita è difficile, hai visto che in questa settimana non possiamo vincere, ma stiamo lavorando molto per domenica, è importante per noi. È importante che possiamo vincere, la squadra si sta allenando bene per fare questo domenica. Sei un punto fermo della tua nazionale, i viaggi in Perù con la nazionale sono un problema, sono pesanti? Ma quando uno va alla nazionale è sempre bene, ma il viaggio è molto lontano, ma è sempre pesante, è pesante che fai 18 ore di volo, ma quando arriva alla nazionale dimentica tutto. Anche quando arriva qua dimentica tutto e deve seguire lavorando per la squadra, quando arriva qua o quando vado alla nazionale.